ciao a tutti oggi ho preparato la torta versata con confettura alle fragole e poi l'ho impreziosita e resa ancora più bella con una decorazione molto semplice ciuffettini di panna e fragole fresche volete vedere la ricetta seguitemi la torta versata appartiene alla tradizione dei dolci di casa ne esistono anche tante ricette tante varianti io la riporto qua nel mio libro i dolci di casa mia e l'ho chiamata torta leggera farcita perché in effetti gli ingredienti sono molto pochi e il risultato è quello di avere una torta farcita ma che è molto soffice e molto leggera la sua particolarità sta appunto nella farcitura potete scegliere quello che volete ma la farcitura della torta versata viene inserita tra una cottura e l'altra della torta prima di tutto imburrate una tortiera da 24 cm di diametro mettete in ciotola quattro uova unite lo zucchero e montate con una frusta elettrica per almeno 10 minuti dopo circa dieci minuti il vostro composto sarà bello spumoso e adesso il momento di andare ad unire l'olio a filo sempre con la frusta in movimento mettiamo via la frusta elettrica perché a questo punto non ci serve più e andiamo ad aggiungere la farina setacciata insieme al lievito mescoliamo e non appena si sarà bene incorporata smettiamo di lavorare a questo punto dividiamo circa a metà a occhio naturalmente il composto e lo andiamo a versare il nostro stampo imburrato ecco qui pareggiamo adesso questa torta va in forno 180 gradi in modalità statica per circa 15 20 minuti eccola qui poi prendete la vostra farcitura io oggi vado di fragole quindi metto la confettura di fragole ma potreste anche mettere per esempio crema la nocciola e poi riprendete l'impasto che avete lasciato da parte e lo andate a sovrapporre alla farcitura ora la rimettiamo in forno per altri 20 minuti ed eccola qui come si presenta la torta versata nella sua semplicità adesso io aspetto che si raffreddi e vi faccio vedere poi come la decoro capovolgiamo la perché così avremo la superficie bella liscia perfetta e andiamo a ricoprirla con lo zucchero a velo ora vi faccio vedere come ho pensato di decorarla per farla diventare una bella torta anche di compleanno quindi adesso la stagione delle fragole prendiamo delle belle fragole le tagliamo in quattro così facciamo questi spicchi e della fragole bello sia la parte esterna ma anche la parte interna vedete ho messo dentro una sac a poche un po di panna userò la bocchetta a stella e vado a mettere tanti bei ciuffoni aggiungete anche qualche fogliolina di menta le mie erano micro ed ecco qui la mia torta versata è pronta andiamone subito a tagliare una fetta così vi faccio vedere il suo interno guardate che bella la farcitura è perfetta ed all'interno della torta e come capita sempre alla fine dei miei video mi sa tanto che questa l'assaggerò per voi se ti è piaciuto il video metti un like qui sotto e seguimi sulla mia pagina grazie